Rimini e Spal sonnecchiano al neri fino alla mezz'ora, quando dopo un rimpallo al limite dell'area Nolè si trova smarcato in area, con lucidità dribbla anche Capecchi e porta in vantaggio i Romagnoli. Sei minuti dopo la Spal vicina al pari, con una punizione di Migliorini che lucida la traversa. Al 43esimo Longobardi non ci pensa su e calcia al volo una ribattuta della difesa ferrarese, palla alta di un niente. Nel recupero il portiere biancorosso Pugliesi si dimentica di avere la palla tra le mani, Quintavalla gliela porta via di testa, ma per l'arbitro Pizzi non si può fare. Nel ribaltamento di fronte pallonetto morbido di Tulli per Nolè, buono lo stile meno la mira. Nella ripresa l'ottavo Spal in avanti, il tiro deviato di Smith è fuori di un capello, nel corner seguente a Bazzani non riesce la deviazione. Minuto 14, assist d'oro di Nolè per Longobardi, più facile segnare che sbagliare, ma la punta riminese ci riesce. 22esimo, torre di Bazzani, Vitiello non sa cosa fare, spunta Cabeccia che da terra insacca l'1-1. Alla mezz'ora cross di Frara per la testa del neoentrato Matteini, parata show di Cabecchi. Nel recupero il Rimini chiede il rigore per un intervento su Tulli. Per Pizzi è tutto ok e la gara si chiude sull'1-1. Nell'intervallo paura per un tifoso della Spal caduto dalle scale della curva. Il ragazzo ha riportato diverse ferite e fratture ed è stato trasportato in ospedale. Ora è cosciente e non è in pericolo di vita. La gioia immensa perché fare due gol di Fino non mi era mai capitato poi in un derby così sentito dai tifosi sotto la curva. Veramente per me, ringrazio tutti, è una gioia immensa. Diciamo che la freddezza non mi manca, sono un giocatore abbastanza tranquillo. Quindi diciamo che sono stato bravo sotto quel punto di vista. Poi ripeto, sono stato anche fortunato perché ho vinto un rimpallo. Però da terra sono stato capace di riuscire a superare il portiere con un pallonetto. Quindi sono contentissimo.